ATTENZIONE, ATTENZIONE! VICE MARVAL DE NIURAM! 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 Scusate, un po' solamente un servo, sarebbe stata insolita, non lo faccio mai, però vorrei un forte applauso per un amico che è combattuto nel sconfitto una martirà come la lucemia ed è qui con noi, la mia regia governo. Così può stare, grazie! Cammiello... Fai il finito, non è vero! E' il finito, è il finito il mio faccio! La parte del mio battetto! Pianchia del Mere! Grazie a Vibola e un grande cuore il nostro arpestino del vilaccio gradato! Padre a Vizu! Grazie. Grazie. Grazie.